Stefano Colantuono contro lo Spezia, l'amichevole che chiude il ritiro pre-campionato a Rovetta, soddisfatto? Tutto secondo programma? Sì, direi sì, insomma, grosse sorprese non ce ne sono state, il lavoro è stato intenso, importante, abbiamo lavorato, abbiamo fatto delle partite, direi che siamo andati discretamente bene per il momento attuale, abbiamo fatto credo sette amichevoli, finora non abbiamo mai subito gol, questo è già indicativo di qualcosa e continuiamo senza fare voli pindarici perché sapete benissimo che al calcio d'agosto do rilevanza a zero, ci serve solo per mettere i minuti nelle gambe, per far conoscere ai nuovi arrivati quelle che sono le nostre idee, il nostro calcio e basta. Calcio d'agosto l'ha detto anche Stefano Colantuono, adesso c'è l'amichevole contro il Chievo Verona, poi ci sarà il primo vero test, la Coppa Italia, il 23 e poi sarà campionato perché sembra ma la fine di agosto è dietro l'angolo. Siamo arrivati, sono rimaste due amichevoli, cioè un amichevole con il Chievo, due infrasettimanali che giocheremo e poi la Coppa Italia. Si faceva la cadenza settimanale, sabato, sabato e poi campionato. Siamo a ridosso del campionato quasi, quindi dobbiamo stare concentrati, dobbiamo rimanere sempre, non possiamo permetterci assolutamente un minimo di disattenzione perché, ripeto, il campionato è alle porte, vogliamo onorare nella maniera più importante la Coppa Italia, anche perché in questo periodo la Coppa Italia diventa un ternalotto per la condizione fisica perché le squadre comunque di serie B, qualora dovesse essere una squadra di serie B, altrimenti una squadra di serie C, vengono a fare partite importanti. Ora il gap, vuoi proprio per problemi fisici, sicuramente non è così grande, quindi dobbiamo stare attenti. Noi ci teniamo alla Coppa Italia, vogliamo partire bene, sfrutturiamo queste amichevoli per lavorare e per fare una partenza degna di nota, speriamo. Per quel che riguarda la squadra, è soddisfatto, stanno dando le risposte che vuole con l'Antuono i giocatori? La squadra sta lavorando molto bene, è una squadra che si sa impegnare, che sta a lavorare, è una squadra silenziosa, è una squadra unita, ormai si conoscono, lo zoccolo duro si conosce da tempo, mi conoscono da tempo e quindi da questo punto di vista siamo avvantaggiati.